38 ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dalla Guardia di Finanza a conclusione di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che ha stroncato una presunta organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga, all'usura, alle estorsioni e al riciclaggio di denaro. Ad alcuni degli indagati è contestata la sua azione mafiosa. Sono coinvolti anche esponenti della vecchia criminalità tarantina. La massiccia operazione delle fiamme gialle del comando provinciale del nucleo di polizia tributaria di Taranto è scattata alle prime luci dell'alba di oggi. È interessato il territorio tra il capoluogo Ionico e State. L'organizzazione criminale cercava anche di controllare il mercato ittico tarantino. Il gruppo malavitoso di riferimento è quello della famiglia Cesario. A capo del sodalizio c'è stato, sino alla sua morte per malattia avvenuta il 28 marzo 2014, Giuseppe Cesario, detto Pelè. Era stato condannato all'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa. Aveva ottenuto alla fine del 2013 la misura alternativa dei domiciliari per potersi curare. Negli ultimi periodi l'organizzazione è stata diretta dai suoi seguaci. Oltre all'ex boss deceduto, che figura nell'ordinanza di custodia cautelare, ci sono altri elementi di spicco della criminalità tarantina, come Orlando Doronzo e Nicola De Vitis. I particolari dell'operazione, intitolata Feudo, sono stati resi notti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, alla presenza del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, Cataldo Motta, e del Procuratore aggiunto Pietro Argentino della Procura di Taranto.